Mette al punto dello stacco, l'allenamento si va a completare Si ritrae le Dundi Casei Che non parteciperà al lancio Si ritrae Lacroix Stacco della macchina con Luc Griff Veloce, tende a sopravvanzare Loftistra Così è l'imbocco della prima curva Allargo Louvertab Si è gettato di galoppo Luisi Torence I 200 di Luc Griff Che sta contenendo Loftab in 13,8 Loftab cerca la seconda posizione della corda Per adesso la mossa non riesce Riesce dopo 300 di gara Loftab si accoda di precisione Avanti a Loftistra Di fuori resta Loreto Sama Che si trascina Lacroix Terza pariglia per le Dundi Casei 28,7 i primi 400 metri Si viene davanti ai tribune Con Luc Griff che precede Loftab Loftistra Di fuori Loreto Sama e Lacroix In terza corsia non perde tempo Le Dume di Casei Le Dume arriva di fianco a Luc Griff 43,8 i 600 30 questi 400 Quelli dall'imbocco della cura fino al palo per il passaggio Le Dume di Casei va su Luc Griff Sopravvanzando Loftab Ancora in terza pariglia il favorito Lacroix Si arriva a metà gara 58,6 Svelta per la categoria 29,9 questi 400 metri Sta per finire a seconda curva Si andrà di là con Le Dume di Casei Ai fianchi di Luc Griff La mossa dal fondo di Lacroix Che salta Loreto Sama Che non ha più niente da dire Il chilometro di Luc In 1,13,4 29,6 dal palo Si andrà in terza opposta Loftab a mezza su Le Dume di Casei Quindi Loftab saltato da Lacroix In bocco dell'ultima curva 4,50 dal palo Con Loftab che prova a svincularsi Dalle Dume di Casei Che ancora attivo ai suoi fianchi 29 il parziale 1,27,6 Tre quarti di miglio Loftab a una su Le Dume Prova ad avvicinarsi Lacroix Ma ancora due lunghezze dalle Dume 2,50 dal traguardo Con Lugrif e Le Dume Sempre prese Poi Lacroix Che si avvicina sul passo L'ingresso Della retta d'arrivo Con Lugrif Che ha un avanti di vantaggio Sulle Dume di Casei Quindi Lacroix Lugrif Ancora in evidenza Lugrif Allunga Metà retta d'arrivo E prende a margine Le Dume di Casei Che si getta di galoppo Lugrif Viene a vincere Con 4 lunghezze di margine Sulla Croix Che risultando l'eroe Le Dume di Casei E secondo avanti All'Oftistran 29,1 Gli ultimi 4 1,56,7 Il tempo totale 1,12,9 La media del chilometro Inavvicinabile Da un capo all'altro Lugrif Marino Lovera Che neanche L'allenatore Per la Varenne Forever 4,14 Il totalizzatore 1,12,9 Lugrif 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 Lugrif